vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org Adamo dove sei? Adamo dove sei? Adamo dove sei? Così cari bambini chiamava Dio Adamo e Deva in quella sera del peccato originale e Adamo non rispondeva alla voce di Dio. Adamo conosceva bene la voce di Dio, conosceva bene Dio suo padre, suo signore, suo creatore che lo aveva creato, fatto dal nulla. Però in quella sera Adamo ebbe paura della voce di Dio. Ebbe paura di Dio. Ah che cosa terribile! Adamo ha sentito la paura. Fino a quel momento non sapeva cosa fosse la paura. Adamo non aveva paura di nulla, era padrone anche lui di tutte le cose, aveva il dominio di tu, soprattutto gli animali, sopra i pesci, gli uccelli. Adamo in questo momento dopo aver disobbedito Dio, dopo aver mangiato del frutto dell'albero della scienza del bene e del male, nel cuore di Adamo è entrata la paura. Soprattutto la paura di Dio. Ah, lui voleva diventare come Dio, sapendo, conoscendo il bene e il male, e adesso ha paura di Dio. E Dio chiama con una voce paternale, piena di amore. È un amico che chiama e Adamo ha paura della voce. Pensate, cari bambini, con che amore nostro Signore, il Padre Eterno, chiamava Adamo. Adamo, dove sei? Era preoccupato. Dio era preoccupato. Dove è Adamo? Si è perso Adamo? e Adamo era tra gli alberi con Eva e aveva paura. Però a un certo punto Adamo si è ricordato che Dio sa tutto, sa anche, conosce anche i nostri pensieri, quindi era inutile nascondersi di Dio. E quando Dio ha chiamato, Adamo dove sei? Finalmente Adamo ha detto, ho sentito la tua voce, però confesso che ho avuto paura della tua voce. Ma come? Era sempre la stessa voce? Voce di un padre? Voce di un amico? Come mai adesso hai paura della voce di Dio? E allora il Padre Eterno ha chiesto subito ad Adamo, ah, tu hai avuto paura della mia voce. Ah, so bene perché hai avuto paura della mia voce. Perché tu ha mangiato, tu hai mangiato del frutto proibito e tu hai perso l'innocenza. Ecco perché hai avuto paura di me. Io sono sempre lo stesso, sempre la stessa bontà, lo stesso amore per te. Sei tu che hai cambiato, tu hai perso l'innocenza e adesso hai paura. E allora Adamo a queste parole non ha detto nulla perché era vero, era vero. Nel cuore di Adamo era nato la malvagità, era nato la malizia. Adamo e Eva avevano perso l'innocenza e si sentivano male. E allora Dio ha chiamato Adamo dopo Eva dopo il serpente e ha cominciato a chiedere a Adamo, a Eva, a chiedere loro di rendere conto della loro libertà, di rendere conto di quello che avevano fatto. E ha cominciato dal più responsabile. Più responsabile era Adamo, dopo c'era Eva, poi c'era anche il serpente. E quindi Dio ha cominciato a chiedere e ha chiesto a Adamo perché Adamo hai fatto questo? Perché mi hai disubbidito? Era difficile, era difficile ubbidire alla mia voce. Io ti avevo chiesto solo una cosa, di non mangiare del frutto di questo albero. Non c'erano tanti alberi in questo giardino, non era una vita così bella in questo giardino. Ti avevo chiesto una cosa molto semplice, una unica cosa ti avevo chiesto, molto semplice. non era difficile, non era difficile. Allora Adamo perché hai fatto questo? Adamo non era pentito del peccato che aveva fatto, no, no. Adamo non era pentito e ha cominciato subito a dare la colpa agli altri. E Adamo ha cominciato a dire, la donna che tu mi hai dato mi ha offerto di questo frutto. E questo frutto io ho mangiato. Adamo con queste parole in fondo ha dato la colpa a Dio. Adamo ha detto, signore è stata la donna che tu mi hai dato, è stata lei, lei mi ha offerto questo frutto, però se tu non mi avessi dato questa donna e se questa donna non mi avessi offerto di questo frutto, io probabilmente non avrei fatto questo peccato. Però perché tu mi hai dato questa donna e questa donna mi ha offerto questo frutto, ho peccato. Però io non ho nessuna colpa, io non ho fatto niente di male, la colpa è della donna e se mai, se mai, se mai, la colpa è tua, la colpa è tua. Quindi Adamo, Adamo si è lavato le mani e non ha voluto prendere la responsabilità del peccato. Io sono innocente, il peccato non è mio, non è mio. Poi Dio ha chiesto a Eva, perché hai fatto così? Perché hai mangiato di questo frutto che io avevo detto di nemmeno toccare? Perché hai fatto questo? E poi perché hai portato questo frutto a Adamo? Perché hai offerto anche a lui questo frutto? E Eva ha detto, ah, boh, è stato il serpente e la colpa non è mia. Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato perché il serpente mi ha ingannata, si è presentata da me questo serpente che parlava e che mi ha detto che in fondo non era vero quello che tu avevi detto. Mi ha promesso che io sarei diventata come Dio mangiando di questo frutto e io ho creduto alla parola del serpente e sono stato ingenuo, ho mangiato, ma la colpa non è mia, la colpa è del serpente. E io comunque ho offerto questo frutto a Adamo perché volevo che anche lui diventasse Dio come me. In fondo avevo buona intenzione, cercavo il bene anche di Adamo, però sono stata ingannata, la colpa non è mia, la colpa non è mia. Anche Eva, Eva davava la colpa agli altri, Eva non riconosceva la sua colpa, Eva non era pentita del suo peccato, no. E poi Dio ha parlato al serpente, non ha chiesto al serpente perché hai fatto questo, no. Guardate bambini, il serpente ha parlato solo durante la tentazione, dopo non parla più, infatti non parla, non parla con Dio il serpente e Dio non parla col serpente, non chiede al serpente cosa hai fatto, no. Dio subito dà al serpente un castigo, un castigo perché il serpente, lo vedremo in una prossima volta, questo serpente è il demone che aveva preso la forma di un serpente per ingannare Adamo e Dio. Allora Dio al serpente diede una maledizione, è la prima maledizione della storia. Fino a quel momento tutto era stato benedetto, quando Dio ha creato tutte le cose, il sole e vide che tutto era buono. Quando ha creato le nuvole, gli animali, vide che tutto era buono. Addirittura agli animali, Dio ha dato una benedizione, ha detto crescete e moltiplicatevi. Anche Adamo e Deva, Dio vide che era buonissimo l'opera che aveva fatto e diede a Adamo e Deva una benedizione, crescete e moltiplicatevi. Qui invece, dopo il peccato originale, Dio dà una maledizione al serpente. E la maledizione al serpente è stata questa. Tu serpente, tu hai fatto questo. Tu sarai maledetto fra tutti gli animali della terra. Striscerai sul tuo ventre e mangerai la polvere tutti i giorni di tua vita. Porrò inimicizia fra te e la donna. Essa schiaccerà la tua testa e tu insidierai al suo calcagno. E una prossima puntata parleremo solo su questa maledizione, va bene? Poi Dio chiamò Eva e ha detto Eva, tu hai fatto molto male. Primo hai ascoltato il serpente, cioè il demonio, e hai dato creduto alla voce del serpente piuttosto che alla mia voce. Hai avuto fede nel serpente e nel mio confronto hai avuto sfiducia. Sei stato incredula. E allora meriti un castigo. E io sono stato molto chiaro nel giorno in cui toccate morirete. Ed io... E allora... Grazie.